E allora intervistiamo il grande autore che ci supporta su Rai.net, Vincenzo Arnone, dove scappa? Faccio anche lei un appello solidare per Teleton. Questa me la dovevate fare. Qual è il numero? 45505, meno male che l'ho imparata a memoria. Infatti avevo quante, mevo! Sono orgoglioso di essere qui, di parlare con questa bella signora, però sono un po' imbarazzato perché è la prima volta che per Teleton vado all'altra parte delle telecamere. Ah, pensavo perché? Vuoi faremi i conti con te poi? Io ho fatto solo, sinora, solo 15 Teleton. Sono veramente 15 su 21. Sono veramente orgoglioso, e sto parlando molto seriamente, di far parte di questa causa che mi rende felice perché Teleton, oltre che riempire sotto l'aspetto prettamente professionale ed artistico, riempire innanzitutto sotto il profilo umano. E ogni qual volta si entra e si esce da una maratona a Teleton, ci si sente meglio e più pieni dentro. Amici di Rainet, avete capito che grande professionista ci ha concesso Teleton come autore per queste dirette dal backstage? Io sono veramente molto onorata di poter lavorare con lui e vi rammento anch'io che tutto l'anno si può donare per la ricerca contro le malattie genetiche. Quindi collegatevi al sito internet Teleton e donate tutto l'anno.